Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è lunedì 6 dicembre 2021, ci avviciniamo sempre più al Natale e questa mattina abbiamo da mettere in evidenza un personaggio particolare, un personaggio natalizio, lo vediamo subito nel festeggiare il Santo del Giorno e San Nicola di Bari, San Nicola nativo della Licia, una regione della Turchia, visse nel III secolo, fu Vescovo di Mira e si distinse per il suo zelo pastorale accompagnato da fatti molto molto prodigiosi, subì però delle persecuzioni sotto l'imperatore Diocleziano e dopo la sua morte fu sepolto appunto a Mira dove esiste ancora una chiesa molto molto antica in cui sono state fatte ricerche archeologiche, però le sue reliquie poi furono trafugate dai baresi che le portarono nella loro città dove eressero una grande basilica ebbene oggi conosciuto come San Nicola di Bari, ma San Nicola è un personaggio particolare dicevo all'inizio perché è associato a Babbo Natale ebbene appunto San Nicola con la sua barba, ovviamente ha perso il cappello e l'abitra da Vescovo e ha assunto il cappuccio di Babbo Natale, un personaggio molto molto caro ai bambini. E diamo un'occhiata ora alle previsioni del tempo, vediamo come sulle Marche ci sia una instabilità diffusa, specie al mattino con rovesci sparsi nei settori del centro meridionali, ci sarà neve sopra i 600 metri, il tempo però dovrebbe migliorare in serata e vediamo che l'alba, il sole sorge alle 7.25 e tramonta alle 16.31. Ed ora passiamo alle notizie del giorno a partire dal sport, dato che oggi è lunedì, lo vediamo sul resto del Carlino. Per quanto riguarda la Ves, una bella giornata, oggi una bella partita, si festeggia Pesaro, Cannavò un minuto per fare decolare la Ves, il risultato è stato Vis-Pesaro 1, Olbia 0. L'attaccante è entrato e appena toccato il pallone ha segnato il gol. I biancorossi tornano alla vittoria, una vittoria classificata di puro cinismo, gol annullati a Gucci e Udo. Banchini, il commento, i cinque cambi spostano gli equilibri. Il tecnico soddisfatto dell'atteggiamento, specie di chi è entrato dopo. Quando stai fuori, ha detto, la testa è molto importante e decide il tuo destino. I mugugni in tribuna nel primo tempo ci sono stati. Noi dobbiamo trasformare i fischi in applausi, ha detto il tecnico. E poi abbiamo un articolo a fondopagina sul resto del Carlino, per quanto riguarda le dichiarazioni di Cannavò, colui che ha segnato il gol. Questo gol può essere un punto di svolta, ha detto. L'attaccante non segnava su azioni da sette mesi. Gavazzi allontana i sogni di gloria. Pensiamo a fare 40 punti. Ebbene, è andata bene per la Visse, ma non è andata molto bene per il Fano Calcio, che sabato ha perso la sua ennesima partita. Fano, ma cosa sta accadendo? È il punto interrogativo. Un primo tempo da cancellare. Una settimana sconcertante per il Granata, sia per le partenze che sul fronte dei risultati. Califano dichiara Roma la peggior prima frazione del campionato. Ora reagiamo. Era forse una sconfitta scontata, dato che il Trastevere è la prima in classifica. E qui la vediamo la classifica. Vediamo appunto il Trastevere a 30 punti. L'Alma, invece, è a 12 punti nelle parti basse appunto della graduatoria. E vediamo anche, per quanto riguarda il basket, girando le pagine, una serata da sballo per l'AVL, che asfalta, questo è il termine che viene usato, il Varese. Una seconda vittoria consecutiva per la squadra pesarese. T-Rick Jones e Larson sono dei veri e propri trascinatori. Bene anche Lamb, all'esordio. Lo scontro salvezza è a senso unico. E qui vediamo l'esultanza di Demetrio. Dopo una tripla segnata, ieri ha stabilito il suo height, ovvero il suo peso massimo, diciamo così, per quanto riguarda i canestri. L'aggressività in difesa è stata la chiave e la soddisfazione di Luca Banchi, una bella vittoria, ha dichiarato, convincente e con il giusto atteggiamento abbiamo fatto un lavoro egregio, ha dichiarato appunto il tecnico. Vediamo anche come segnala lo sport il Corriere Adriatico. Visse un bel salto nei play-off. Battaglia contro l'Olbia, in bilico fino all'ultimo, poi ci pensa Cannavò a fare esultare il Benelli. Alla fine arrivano tre punti davvero preziosi che lanciano molto in alto la squadra bianco-russa. Dedicata ai nostri tifosi questa vittoria, lo dice Banchini, che ovviamente è soddisfatto, avevo chiesto ai ragazzi di tornare alla vittoria senza fare pesare l'assillo. Ho un gruppo che lavora con i veterani che indicano la direzione e i giovani rispondono entusiasti, ha detto il tecnico. A fondo pagina abbiamo le dichiarazioni anche di Cannavò che esulta, mi mancava tanto un gol su azione, ha dichiarato, infatti su azione non segnava da tempo. E vediamo invece per quanto riguarda le notizie sul Fano. Il Fano non sta smobilitando, nonostante insomma la situazione precaria in classifica. E' russo che smentisce le voci su ritardi nei pagamenti degli stipendi e sull'esodo dei giocatori. Presto dice faremo alcuni acquisti, dobbiamo scegliere con calma, attacco decimato per il derby. Ebbene il 3-1 di Roma contro la capolista Trastevere ha fatto ripiombare nel buio l'alma, anche se una sconfitta sul campo della lanciatissima prima della classe poteva essere in preventivo alla vigilia della partita. Detto questo, vediamo subito le notizie che appaiono sul resto del Carlino, le notizie di Cronaca, le notizie di Bianca. Oggi è un giorno anche particolare per quanto riguarda la sanità. Entra in vigore il Super Green Pass e c'è anche l'incubo. Multe lo mette in evidenza appunto il Carlino nel titolo di apertura. Bus, bar, ristoranti. Da oggi scattano i controlli. La polizia locale avverte la prevenzione è finita. Adesso chi sgarra paga. La fotonotizia è dedicata alla bella vittoria della VL. Tutta un'altra VL, quella che è apparsa contro il Varese, ansia per delfino ferito ad un ginocchio. Una notizia che riguarda i lavori che si stanno realizzando in via San Decenzio. Qui si vede la luce. Oggi si decide per la riapertura almeno parziale della strada. Un'apertura a senso unico. E ancora terapie intensive. La Morani all'attacco della Regione Marche. Per quanto riguarda il numero appunto dei reparti, dei ricoveri. E poi a Fano, nel centro storico, alcune vie in mano ai baby vandali. Sono notizie che rimbalzano poi dal Corriere Adriatico, il resto del Carlino e viceversa. E per quanto riguarda le feste, purtroppo la situazione sanitaria incide sulle prenotazioni, alcune dei quali sono cancellati. E c'è un'emergenza al turismo. Apriamo la pagina sul resto del Carlino. Green Pass, la polizia locale, chi sgarra paga, la comandante Muzzini, afferma la prevenzione finita. Il nodo trasporti è minori. È un nodo da sciogliere, perché sul trasporto pubblico i rischi rimangono. Amibus, la procedura è uguale per tutti. Vediamo che oggi appunto è il giorno del debutto di due Green Pass, che vuole dire automaticamente che sarà il giorno dei controlli. Tutte le sere avremo una pattuglia dedicata a questo, dice appunto la Muzzini. Una serata in cui appunto le pattuglie saranno sulla strada e gireranno molto, sia in centro storico che in periferia. Se il certificato fa rima con disdetta, il super e il terrore dei ristoratori. Tanti titolari sono molto preoccupati, tanti titolari di esercizi, dei grossi cali della clientela, bezicheri dell'osteria da Pasqualon. Appena sentono la parola, si allontanano. La parola ovviamente è quella del controllo. Pierotti, c'è paura. Ci sono saltati matrimoni e cene aziendali. Quindi si profila ancora una crisi per quanto riguarda il settore dell'alimentazione. Per Cecorulli di Gazzebo non sarà un Natale bello. Resta l'asporto, ma le prenotazioni vanno molto, molto a rilento. E in questa pagina invece abbiamo le dichiarazioni di Alessia Morani, appunto del Partito Democratico, che se la prende un po' con il Saltamartini e con tutto l'apparato sanitario della Regione Marche. La parlamentare del PD interviene sulla diatriba con appunto l'assessore regionale. Così vedrò dove e quante sono appunto le terapie intensive sul cui numero, per quanto rivela la Regione, ci sono diverse contraddizioni. Ma l'assessore mi ha già dato ragione, dice appunto la parlamentare. Per la Regione l'occupazione dei posti letto è all'11,6%, per l'Agenas invece è il 12%. E l'Agenas è l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali. Tendiamo ancora la pagina e vediamo la cronaca. Lite selvaggia tra lui e lei e arriva la polizia. Era una coppia che si trovava in macchina con la figlioletta dietro. Ebbene tra i due a causa della gelosia scoppia una lite, si prendono a schiaffi, lei denuncia lui alla polizia, ma lui reagisce dicendo che anche lei mi ha preso a schiaffi. E dunque tutti e due finiscono al pronto soccorso per farsi refertare. Le ferite di ambedue sono lievi tra i 7 e i 10 giorni di prognosi. Appunto all'origine della lite, che non è nuova tra la coppia e il resto, ci sono problemi di gelosia. E questa notizia dà l'input al resto del carlino per fare un esame sugli episodi di maltrattamento e stalking. Sono 78 le donne sottratte ai violenti, un'impennata dei casi di oltre il 20%. Gli inquirenti, le moglie, ora hanno il coraggio di reagire. Per fortuna anche gli atti persecutori non diminuiscono. Sono passati da 39 casi dell'anno scorso a 46 di oggi. E in questa tabella vediamo un attimo il confronto tra quello che è accaduto nel 2020 e quello che è accaduto nel 2021. Gli atti persecutori sono aumentati, li vediamo qui, da 4 sono passati a 9. I casi di violenza domestica sono invece diminuiti da 4 a 2. Le denunce accolte e i reati sono stati 65 nel 2020 per quanto riguarda i maltrattamenti in famiglia e sono stati 78 nel 2021. Invece gli atti persecutori sono passati da 39 nel 2020 a 46 nel 2021. Ma nel 2020 si è verificato anche un femminicidio. San Decenzio, piccola svolta, a breve riaprirà una corsia. Il Comune ha deciso di intervenire su questa strada. L'assessore Belloni, careggiata libera, ha senso unico verso Via Manzoni tra oggi e domani per liberare, così è stato detto, residenti ed esercenti. Giriamo ancora la pagina e vediamo quella che si riferisce a Fano, dove si sta celebrando il congresso del Partito Democratico, un congresso alla svolta. In vantaggio per ora c'è la parte degli AIDEM di Tommaso della Dora. Congresso PD, dopo due giorni, AIDEM è in vantaggio su futuro democratico. Si è votato in 5 circoli su 8, candidato appunto segretario è Tommaso della Dora. Domani sarà la volta dei circoli di Gimarra Fenile, seguiranno poi l'8 dicembre Sant'Orso, il 10 Metauriglia, sabato 11 dicembre, la giornata conclusiva con la proclamazione del segretario e degli eletti all'Assemblea Comunale. Fermate i baby vandali del centro. È un appello questo che i residenti fanno alle forze dell'ordine, ma anche all'amministrazione comunale. c'è allarme e ansia tra i cittadini di Fano. La mancanza di controlli lascia mano libera agli adolescenti, sfascia tutto. E il bello è che sono proprio dei minorenni a dare in escandescenze e a così, insomma, oltre a fare schiamazzi, ma anche a distruggere, insomma, si dedicano a distruggere beni pubblici, insomma, sono vandali, grafomani, insomma, fanno, fanno da matti e ci vogliono più controlli. Soprattutto in via Rinalducci in questo caso, perché in via Rinalducci è accaduto l'ultimo episodio che merita attenzione da parte degli inquirenti. Per quanto riguarda Urbino, vediamo che oggi negli spazi della data, alle ore 9.30, il liceo scientifico Laurana Baldi e il Comune, in collaborazione con l'Università, stanno organizzando la presentazione di Nosotros dentro la storia, un convegno dedicato alla battaglia del Metauro. Chissà che non si riesca ad individuare dopo tutti questi studi e queste ricerche il sito esatto da dove è avvenuta la battaglia. Apriamo anche il Corriere Adriatico per vedere le notizie del giorno. L'apertura della pagina è dedicata al Super Green Pass. Da oggi al 15 gennaio anche nelle Marche è necessario il nuovo certificato verde, regole, spostamenti e controlli. Senza non si potrà entrare in ristoranti, cinema ed eventi sportivi. In regione più pazienti però nelle terapie intensive quindi aumentano i ricoveri. La VL ha cambiato marcia, la vittoria del basket pesarese si conquista la fotonotizia centrale. Le tre notizie a centropagine invece sono dedicate ad una tassa, la TEFA che spunta come tributo ma non in aggiunta a Pesaro. A Fano un altro episodio di trasgressione da parte dei giovani avvenuto al Pincio e poi ancora a Pesaro lite nella strada dello shopping arriva la polizia. Una lite diversa da quella che ha coinvolto la coppia di cui abbiamo parlato prima. Apriamo la pagina e vediamo la sanità aumentano i pazienti nelle terapie intensive ora ci vuole la massima cautela è un nuovo appello questo del governatore Acquaroli in vista delle festività natalizie. Nell'ultima settimana è stato registrato un impatto nei ricoveri in area medica e insomma poi qui vediamo sempre le solite tabelle ma sono sempre tabelle interessanti che il Corriere Adriatico pubblica per dare per sentire il polso proprio della situazione ed è presto per dire se Omicron sia meno potente della Delta sono le varianti queste che sviluppano il contagio del virus servono almeno due settimane ancora di studi e di ricerche per dare un risultato a questo interrogativo l'infettivologo Ottavio interviene sull'ipotesi che la variante sia poco più di un raffreddore insomma anche questo viene detto e poi su questa doppia pagina del Corriere vediamo i casi in cui serve il Super Green Pass e i casi in cui non serve il Super Green Pass il Super Green Pass serve per entrare nei bar nei ristoranti nei pub nelle discoteche negli stadi nei palazzetti per partecipare a feste e cerimonie pubbliche per entrare nel cinema nei teatri assistere ai concerti eccetera eccetera per invece andare al lavoro oppure salire su un bus nei mezzi pubblici nei taxi oppure per andare in montagna e nella zona bianca non serve il Green Pass comunque per tutti i particolari queste pagine queste due pagine sono molto interessanti giriamo e vediamo ancora polemiche tra coloro che sostengono che il vaccino sia l'unica cura possibile per combattere il virus l'unica cura possibile efficace per combattere il virus e coloro invece che lo negano chi invece dice che è importante ma che poi dichiara con espressioni contestabili e accuse nei confronti dei Novax è il il virologo Roberto Burioni Burioni insomma ha usato un'espressione forte ha detto Novax come sorci la procura però archivia l'esposto che è stato presentato dall'avvocato Gianluca Ottaviani che aveva presentato per conto di Giorgia Bertoni questa azione legale e il tribunale insomma ha archiviato il caso propongo una colletta per pagare ai Novax abbonamenti a Netflix per quanto dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come sorci aveva dichiarato Roberto Burioni una dichiarazione insomma che rimane impunita in questo caso perché non viene considerata offensiva dal giudice furiosa lite nella zona dello shopping in Galleria Roma chiamata la polizia un'altra lite appunto dopo quella che è successa nell'auto tra la coppia di prima è accaduta ieri nei pressi di Via Branca una lite furiosa in pieno centro ieri pomeriggio mentre decine di pesaresi si preparavano al rito delle vasche in Via Branca curiosando appunto tra mercatini negozi vetrine allestimenti natalizi le motivazioni non si conoscono tutto è nato così in maniera estemporanea ha coinvolto molte persone e poi tutto è stato placato ma anche questo articolo richiama poi la vicenda di prima picchia la compagna scatta il codice rosso 35enne denunciato per lesioni e percosse sorpresa sorpresa c'è il tefa da versare ma nessuna tassazione occulta stanno arrivando nelle case dei pesaresi i moduli dei pagamenti ed ecco la spiegazione il prossimo 16 dicembre sarà un giorno particolare per quanto riguarda le tasse abbiamo anche la seconda rata dell'imu tasi riguardante gli immobili per chi non ha scelto la soluzione della rata unica e scadrà anche la quarta e ultima rata della tari la tariffa dei rifiuti da corrispondere al gestore di marche multiservizi così come era stato deciso dal comune che per il 2021 ha optato per una serie di scadenze ravvicinate 16 settembre 16 ottobre 16 novembre e appunto 16 dicembre insomma un giorno un po' particolare per chi dovrà far fronte a tutti questi pagamenti vediamo anche le notizie che riguardano Urbino straordinariamente abili bello questo titolo perché riguarda le persone con handicap straordinariamente abili a toccare i cuori in platea dal teatro Sanzio il messaggio forte dei giovani protagonisti non ci sono ostacoli hanno detto è stata una serata carica di emozioni quella del 3 dicembre al teatro Sanzio nella giornata delle persone con disabilità il messaggio forte e potente lo hanno mandato loro i ragazzi straordinariamente abili così vengono definiti ormai i cosiddetti disabili i ragazzi straordinariamente abili che dal palco hanno parlato al cuore del pubblico uno spettacolo emozionante uno spettacolo che fa riflettere anche per tante così per tante cose che si nutrono in maniera impropria nei confronti di certe persone e sulla pagina di Fano si parla della rissa una rissa serale che è scaturita tra ragazzini minorenni al pincio bottiglie rotte danneggiate le auto rigate rotte gli specchietti buttate a terra le transenne vediamo qui alcune foto significative è una denuncia questa che sorge da una forza politica da fratelli d'Italia che più volte era intervenuta per ottenere più controlli sappiamo per esempio che i vigili urbani dopo le 20 di sera non sono più in servizio subentrano ovviamente i carabinieri la polizia però con l'organico che hanno ancora non basta per avere un controllo una visione esatta di quello che accade su tutto il territorio non solo sul centro ma anche sulla periferia un problema questo da risolvere anche perché il Pincio sembra che in questi giorni in cui è un po' la nuova piazza di Fano perché con le decorazioni natalizie è veramente diventato un gioiello ebbene proprio in questi giorni diventa un punto focale per quanto riguarda l'ordine pubblico i bimbi imparano a fare i pasticceri nella cornice di Natale ieri due belle iniziative l'inaugurazione della pista di ghiaccio in piazza veduti a Fano e il salotto del gusto possiamo chiamarlo anche così quello che è stato allestito al Pincio i pasticceri insegnano ai bambini a fare i biscotti di Natale da appendere sotto l'albero dopo poi si mangiano anche Marche Multiservizi ora restituisca 300 mila euro a provincia e regione si parla della voragine di Urciano l'ex sindaco Bacchiocchi ricorda le spese per la ricostruzione della strada chiedero le colpe a me per quanto riguarda Pergola sopralluogo al distretto sanitario io sindaca ero all'oscuro di tutto la guidarelli la sindaca Simona Guidarelli interviene dopo l'intervento a Pergola dei due assessori regionali erano a Saltamartini e mi sembra Baldelli si e Baldelli e con i vertici dell'Aso hanno fatto un sopralluogo per quanto riguarda la sanità Folla premia Mondolfo il Natale più bello insieme alla solidarietà la magia dei mercatini anche Mondolfo merita una visita da parte di tutti coloro che si trovano nelle vicinanze del territorio ma anche da più lontano Mondolfo è un paese molto bello e ancora più bello in questi giorni vicine al Natale era l'ultima notizia no prima voglio segnalarvi anche quello che sta avvenendo a Senigallia tutti pazzi per luci e villaggio il centro storico preso d'assalto ma i positivi crescono i positivi sono quelli che sono stati colpiti dal virus un nuovo focolaio è stato individuato nella scuola Puccini con due classi in DAD raddoppiano le postazioni per i vicini insomma c'è molto assembramento e bisogna stare attenti perché il Natale attira il Natale richiama ma il virus si nasconde anche appunto tra queste confusioni di persone è un ubriaco scappa all'alto inseguito per due chilometri un ventunenne dell'est europea dell'est Europa scusa braccato dalla polizia denunce patente ritirata è appunto l'esito di questa azione e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 buona giornata dell'est�� la l'esite di